Consigliere Galizzi, Milano e Cortina, si sono giudicati i giochi olimpici del 2026, tra le piazze che hanno festeggiato ieri anche quella di Sondre, non a caso, perché ci sono anche le montagne della Valtellina. Ci sono tutte le montagne della Valtellina, ma ci sono comunque anche tutte le altre montagne, penso che questa sia una grande occasione per i nostri territori, penso che ci sia da sfruttare questa grande occasione anche per fare ulteriori investimenti, investimenti che vanno fatti per la viabilità, vanno fatti comunque sugli impianti cistici per dare un servizio migliore, per cogliere questa opportunità nel modo giusto. Noi abbiamo parlato di Valtellina, lei però ritiene che ci possa essere un'opportunità anche per le valli bergamasche, in che senso? Sì, è accolto nel segno. Sì, anche con le valli bergamasche hanno bisogno di tanti investimenti, investimenti sulla viabilità, come dicevo prima, ma anche sugli impianti cistici. Serviranno comunque impianti anche per gli allenamenti, per le varie nazionalità, quindi penso che in questo momento sia da sfruttare anche per quello. Sfruttare per migliorare il servizio in occasione, sì, di questo evento, ma anche per migliorare i servizi, per dare qualcosa in più anche ai nostri cittadini a Lombardo. E hai già in mente più o meno in che zona, quali strutture della provincia di Bergamo potrebbero essere utili? Per esempio, per la mia zona, sicuramente gli investimenti vanno fatti sugli impianti cistici di Piazza Torre e secondo me adesso abbiamo un grosso problema in valle che tutti conosciamo, che è quello degli impianti cistici Bremboschia, Foppo, Lucarona, dove credo che sarebbe opportuno anche un intervento nostro in Regione Lombardia. Secondo me sarebbe in questo momento molto importante, anche perché rischiare di perdere la stagione vorrebbe dire danneggiare gravemente l'economia dell'intera valle. Quindi investiamo, adesso volutiamo e vediamo di investire, a mio parere, anche come Regione, per garantire la stagione cistica e migliorare quello che si può migliorare. Ecco, c'è un altro auspicio che viene fatto e che questo evento possa portare anche in maniera un po' più diffusa in generale nelle zone lombarde un effetto positivo sul turismo. Sicuramente, sicuramente porterà un effetto positivo sul turismo. Abbiamo avanti anni di investimento e anni comunque che si raccoglieranno i frutti. Non possiamo permetterci di perdere tempo in questo momento, dobbiamo lavorare seriamente e rapidamente per farci trovare pronti.